ben ragazzi io sono gisius e io sono rosso ex matthews ex matthews perché rosso è il nuovo rosso non sono rosso però va bene ok oggi siamo in un altro episodio di clash royale messaggi strani ok come ho detto ho ancora una magic chest perché ho ricominciato dopo col ciclo di merda 9 magical perché dico magic non si sa magic prima un omaggio per cominciare allora vale sempre la sfida di la malfa dell'ultima volta mi hai detto se la ritrovi se la trovi vale lo stesso la sfida ho detto va bene prima anche un baule normale ma cos'era la sfida di chi non me la ricorda è che se io trovo la leggendaria lui cancella clash dai ok però oggi allora penso che spacchetterò tutto prima perché andiamo a fare delle sfide particolarmente ignoranti la mamma mi ha detto allora senti fa una cosa questa challenge non l'ha mai fatto nessuno gioca a clash royale ben dato con lui che mi dà le indicazioni ok dovete far conto che il mio schermo non è clash royale a tutto schermo ma è la metà più o meno diciamo tra virgolette no quindi posso andare anche a cliccare su altri programmi se ne ho voglia e non vedo le cari non vedo niente perché vedrò davanti questa che è la mia filpa salve non sono ancora così cretino andare in giro a mezza e manica tra parenti sta per venire giù l'ira di dio fuori più o meno e quindi andiamo ad aprire tutti i bagulini qua noi troviamo il messaggio ok posso trovare anche qua dentro la leggendaria ci vuole solo tanto culo trovando in qualunque cosa quello è il problema non la troverei mai così cazzo oggi tanto aspetta la sento epica 3 gigante certo vai carino è questo qua 7 7 7 carte attenzione 7 carte potrebbero essere epiche spalmate a cazzo rare spalmate a cazzo oppure una leggenda o comuni una valchiria a me sempre me la danno tipo con le briciole un trio di moschettieri 13 cavalieri 6 strutturi ok se qua ho 3 epiche basta hai vinto non guardo non guardare neanche tu perché non so non era un'epica questa sicuro sono dei razzi epica cosa mi aspetta 3 furie 3 furie 3 furie io scontavo di trovare la leggenda certo come no quando va mi piace sperare visto che non sono così rincoglionito non andiamo a fare le sfide in arena 7 visto che magari magari ci tengo no dai però una la vogliamo la vogliamo tutti mettiamo un vabbè grazie ti vogliamo i tuoi fan l'ho apprezzata ora adesso appena riesco a lasciarmi questo perfetto ha bisogno delle cuffie qua oh come sei bello sento un flebile suono un flebile inizia con salire con quella bella freccia più giù più giù un pochino giù fai tutto a destra ok fermo scendi ok fermo sei sul pulsante amichevole ok vai giù vai giù giù un pochino ancora giù più a destra su poco ok schiaccia hai mandato l'amichevole fino a qua e la parte facile è stata fatta è partita l'amichevole ok metti mi sono al centro adesso non sei troppo al centro in realtà vai un po' a destra si un pochino a destra ancora dai dimmi sei perfettamente al centro ok scendi giù ancora un po' giù ok più a destra leggermente ok un pochino a sinistra magari ecco quello è il drago prendi il drago si tiralo su si più a sinistra magari piazzalo lì non è andata così male ok adesso siamo ancora al centro più o meno si al centro ok giù destra 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 ancora un po' ancora un po' ancora un pochino ancora un pochino perfetto dobbili lanceri piazza prendili piazza guardi lì un po' più su più su più su più su più su mettili stai giocando malissimo lo vedo ok tranquillo sei sempre pieno di cose più a destra 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 su prendi mini pecca più su più su più su più su più su piazzalo lì a caso perfetto ok su 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 destra 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 prendi la mongola più su giù 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 non l'hai presa non l'hai presa dove sei finito quindi non l'hai presa con quella cazzo di prezzo non l'hai presa, non la faccio più su più su su destra prendi la mongola più su piazzala lì ok l'hai messo giù pure lui eh do gelo gelo dove ti devo prendi la gelo su 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 destra 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 giù, 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 destra, destra, giù, destra ti ha distrutto la torre giù, 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 giù piazzala gliela è congelata, ok, perfetto ed è andata giù la lungo schede, ho sentito anche la sua, no, la tua è andata giù la prima è andata giù, ok, giù prendi quella marchiera lì a caso su, su, piazzala lì così va benissimo, giù, giù, giù ok, prendi il dragon su, 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 va bene lì buttalo lì così, giù, giù, giù più destra, più destra, più destra prendi il mini pecca no, non l'hai preso, ok, prendilo adesso giù, 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 piazzalo lì, così, perfetto hai fatto una delle tue tattiche hai mandato il dragon mangi e piazzato il mini pecca dietro giù, 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 giù giù, prendi le frecce su, 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 su bravo, molla lì molla lì, ok no, là, te lo lo diamo, non te lo diamo no, adesso, giù, 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 giù destra, destra, destra giù, 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 giù prendiamo la gelo a destra, destra, non l'hai presa ho detto, giù, giù, destra, su, su, destra, destra prendi la gelo da Dio alla torre è ormai diventata inutile, mollala dove vuoi destra su, su, su no, destra, su su, su, destra prendi la mongola, piazzala, perfetto sei un lato positivo che ti stanno facendo giù l'ultimo beh, dai c'è un consigliatore di me ha parlato quello che gioca non vedo tu non hai otto sensi no, ne ho uno e gioca a suor ooooh questa te la da buona giù stiamo cercando di schiacciare solo ok, adesso, destra ok, sei solo, ok, schiaccialo perfetto ok ritorniamo alle mette giù giù stanno uscendo le partite davvero schifose però io faccio del mio meglio anche tu penso no, no, non vero parla no, prendi quella vai, l'hai messa a caso cioè, facciamo così no, non puoi fare non stai neanche prendendo le carte quello è il problema stai prendendo la parte nera dello schermo wow la mongola, su, su con la mongola, vai buttala lì, così, bravo giù, giù, giù giù, giù giù, giù giù, non c'è prendi il drago dov'è? più a destra prendi il drago bravissimo ti ha congelato la mongola fa niente prendi la gero ok, sei su, la gero ok più giù, più giù giù, giù, giù oh la la giù, più giù più giù più giù non sta andando così male più su, la torre vai, giù, giù, giù giù, giù ancora un po' destra, destra, destra destra, destra prendi la gero a caso tanto ormai giù, giù su, 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 su destra, destra prendi il cannone prendi il cannone più su, no più su, cannone ma niente va bene, non lo so più su, più su eh va bene più giù, più giù mi sei finito con la, non vedo la freccia io più su, ok perfetto su, su su, su no, non stai prendendo carte vai tu tanto ormai hai perso solo due torre stavolta e però non hai fatto un danno davvero e anche no giù allora, mongolfiera non c'è drago giù su il drago prendi su in fondo dove li metto su fino a lì è praticamente al centro mongolfiera giù, giù si, c'è giù prendi la mongola dove la puoi mettere è nell'angolino dimmi quanto il drago vicino a mongolfiera più su più su allora più a destra tutto a destra perfetto è nell'angolino e c'è il drago che la copre, giù, 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 prendi la gelo, sei sopra la gelo, su, un pochino, c'è la gelo, vai su, 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 mollala, più giù, più giù, no, troppo, è mollata troppo, però ha colpito una volta la gelo, c'è la gelo tra poco e carica, ok, dammi quando la gelo, ok, carica, giù, 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 destra, 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 giù, destra, destra, prendila, dovrebbe piazzare, su, 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 andava giù, ok, casissimo, ok, sta andando di merda, su, 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 prendi qua la gelo lì a caso, ok, più a destra, più a destra, no, no, più giù, più giù, volevo, io voglio fare lì, però gli hai quasi diretto, ho tutte e due retori, stavolta, si, devo prendere ok, però, adesso, tutti si chiedono nel campo che stai facendo così schifo, ah, ok, su, scrivi il gioco, adesso vogliamo scrivere il gioco, occhi chiusi, se non schiacci le cose del messaggio è difficile, se vuoi scrivere il gioco, occhi vendati, lo vogliamo fare, io non ti dico se scrivi giusto, perfetto, allora hai scritto, ho accettato, accettato, l, virgola, f, c, m, maiuscola, punto, l, minuscola, ma guarda, dico io che devo sulle micchie qui qua, ah, io mi devo soffiare il naso mentre tu dovresti giocare, ok, f, m, su, 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 destra, destra, sinistra, 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 sto andando a caso anche ormai, sinistra, sinistra, lo faccio un po' per farti impazzire, prendi i goblin al cerio, su, su, si sono i goblin al cerio adesso, non lo so, si vengono la mongola piena, non mi pecca la cerio, no, se viviamo per distraire mi pecca i goblin al cerio, giù, prendi il draghetto, metti il draghetto, prendi la cerio, metti la cerio, su, su, prendi la mongola, su, 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 su con la mongola, vai così, gielo, destra, 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 prendi la gielo, si, su, 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 mettila, metti la perfetta, perfetta, oh, no, te la cuore, vi siete gelate, non si assumono, va bene, va bene, no, 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 ho messo il draghetto, giù, 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 prendi i goblin al cerio, su, 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 è andata la mongola, su, metti lì, va bene così, mi ha messo giù anche lui, però fa niente, giù, giù, cannone, destra, 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 prendi il cannone, su, 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 più a destra, per destra, troppo sinistra, giù, 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 su, su, prendi il draghetto, la torre è andata, su, 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 sul draghetto, troppo sul draghetto, giù, giù, non c'è, su, 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 mini pecca, prendi, su, 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 perfetto, è un pochino su, un pochino su, è andata la torre, hai fatto pochi danni, però stavo tenendo, di bravo, è che basta un respiro, oh, il disastro, oh mio, la guffa di è andato cieco, quante dita sono queste? 40 ore, adesso la sento, perfetto, perché gli ascolto a Milano? Perché ragazzi direi che a 26 minuti possiamo stoppare qua, 26 minuti? Io non l'ho ancora recuperato la capice di vedere, ma è una cosa temporanea, ci speriamo, quindi ragazzi se vi è piaciuto un momento, vi piace, iscrivetevi e noi siamo i primi a fare questa challenge, ignorantissima, e vedremo di allenarci un po' magari prima di, rifarla, sì, magari tipo un modo per selezionare le truppe, quello sarebbe un buon passo, destra, destra, giù, giù, testra, giù, sai che potevo fare almeno di trascinare, ma potevo cliccare e poi andare su e cliccare, vero? Allora, ci sono i primi a fare il video, buongiorno almeno di fare il video di ripartita, diciamo che scopro l'ho detto, perché, si, i primi a fare gli altri a fare, abbiamo già detto, si lo so, ho saltato per dire Dio, si. Dai, mi cerebrale.